Questo posto è diverso, è speciale, ma lo sanno tutti. Scappate! Tutti lo sentono. Ma che di volo è successo? Forza, dobbiamo andare subito! E io l'ho guardata negli occhi, quest'isola. E quello che ho visto è bellissimo. Io credo in te. Dimmi che ti rivedrò di nuovo. Sono uno dei sopravvissuti del volo Oceanica 815. Se per tutto quello che ci è capitato esistesse una ragione... Ha un'altra vita, fratello! Lost, il decimo anniversario, presentato da ABC Studios di Team Vision.